uma a dee r. i brochoms quanta su applying no un psz piatto What non muore questo stai ci non muore dopo colpi ho tirato che devo lo sparare al parkour scusa francese un scottino non so io ma che che mi ha sparato prima ero io vaffan mocca ma io ho 11 di vita abbastanza eh io ho 50 io vuoi una grande impatto grazie niente devo uccidere dei vici con quale vita la mia no perchè la mia da me no letto con un libro ok mi sono messo a camper becappella attento fabio c'è sta la twitch muoio è uscito te lo sto spottare te sta a mirare te sta a mirare e invece no te sta a mirare raga interrogo fuori perchè sono ignorante si ma sta a mirare non crepa ma porco dio raga sono a terra in là raga help help tweak rianimami che mira colpa di francese suicidio io sono sopravviso sulla merda la madonna la madonna la madonna cristo Noi, ragazzi, tiro fuori l'animo da scioppone, vai Ma io esco con il cristo cane, però quello no, che fa male Ma ga, ostaggio Ma Luca? Luca... Era gay No 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 No, poi si ovviamente fuzzo Perché fuzzo? Non è nemmeno in party Torna Luca, era gay Ehi, e adesso sta con sto cazzo Ah, tu parti, controlla Sasa era etero, ma adesso è gay Oh ma gah! 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 Dai, devi cantare a bianco, devi cantare a bianco Vaga, posso ammazzare lo stadio Vaga, posso ammazzare lo stadio, per cortesia? Nooo Si Sasa, se mi fai un oh ma gah 3x Ammazzare lo stadio con il fumogeno Ehi, dove sei? Ehi, ricarica Oh ma gah! Oh ma gah! Ehi, hai detto oh ma gah! Hai detto oh ma gah! 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 Sono vivo! Lo raggiungo Ehi, mi anima, per favore Top 5 di banger Un rainbow fizziccio Ehi, mi vieni a rianimare Ehi, mi vieni a rianimare Oh ma emu, mi vieni a rianimare Aspetta che c'è la finestra Ehi, stai aperta qua davanti, è un caldo Arrivo io! Oh ma gah! 3x, oh ma gah! Blur 720, non va Eh no, vai a rianimare queste 7x20 Blur Aspetta, hai un fumaggio di copertura? Eh, è rimbalzato Uomideee! Ehi, arrivo di ocanza Nella barca, nella barca Ehi, mi sto morendo! Sto morendo veramente Pensi che io ti possa lasciarmi via? Sì Sì Hai ragione, hai ragione Oh ma gah! Foto ricordo? Eh! Foto ricordo, grazie C'è 5€ Ehm Rucca sta tutto sopra Rucca, eh ragazzi Quando sei di Milano Un marocchino ti chiede soldi E stranamente diventi come lui No Ok C'è... C'è una trappola Ragazzi, sezioni da dietro Sezioni da dietro ragazzi Oh ma gah Oh ma gah Oh ma gah Sono scared tanto io Molto da sopra Oh cristo! Camera da me! Camera da me! Flasciata! Che cazzo di nascite! L'avevo flasciata, se non ho perso Non ho studiato Non ho studiato Aiuto! Mi sono interrogato Oh ma gah Oh ma gah Mi ridà Mi costruisce il favore Ciao Arrivo Arrivo il tuo soccorso Ah ok Siiii! Io quello rosa gioco tutta tranquillità Ho flasciato due volte che la vera Mi ha buttato a terra Eh ok però adesso vado interrogando Io sono il compagno di classe quello che aiuta Quello che aiuta quello interrogato Ah tu sei l'utico Ti suggeri tu Come l'ha ammazzato me Ma che cazzo sto dicendo? Jaeger no Jaeger Di solito sono il quale ho interrogato Anche se non studia mai però fa niente E' legito Io mi tosco la merda Luca non parla Dov'altro il gara Luca Luca Dov'altro dio Eccolo Dov'altro il gara Ha preso Doc con la skin delle Barbie Come capire se Ketto c'è o no Ketto sei laziale vero? Parco dio no Mai Come capire se Sasa c'è o no Sasa Gino Non c'è infatti C***o Bandit 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 Oh Metti Bandit 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 Metti Bandit Leggi Gino E' Metti E' Metti il mio amato sempre serie mi serve una baricata luca metti che una baricata un po di vita luca metti che una baricata luca era che piccione metti che al tesolo mi serve una baricata raga non c'è pezzo mi hanno sfondato dietro raga niente più baricata quella non me l'aspettate dove? 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 raga non l'ossaggio a voi sono morti tutti ma che cazzo ma dove era? è entrato da lì non è possibile raga non è possibile che eravate in due non l'obiettivo e nessuno l'ha visto sasa perchè tu invece sei dall'altra parte della mappa? quella è una domanda questo 2 kg è fatta ammazzare e loro hanno preso l'ostaggio ma ce lo chiamo pure noi non è il culo però l'ostaggio no raga raga squadra stazione rapida squadra stazione rapida vai stune e flash non ce la faccio stessa prendo cosa cazzo nooo con il scudo no che cazzo però ho le raga le stune e le cazzo di flash e fumoci abbiamo le stune e le flash dai ce l'abbiamo c'è va bene va bene va bene va bene va tutto a posto va la mitraglia di cazzo di fiuzzi che non c'è tutto voi raga state state dietro di me che è toccato avanti con lo scudo invece li sto dietro con il mitraglione semmai cavolo avanti a frenina feia per camera guarda io tranquilli no un altro colpo è distrutta aspetta è distrutta ok aia porco dio la bottiglia è nel ginocchio preso aia raga c'è una finestra scudo prego vai avanti volete un fumogero non prego c'è cavera qui davanti via perfetto andiamogli in mano andiamogli in co andiamogli in co andiamogli in davanti ragazzi credibili perciò oh my gun oh my gun madonna vado sparato ma dove cazzo sono? oh la grappola di vero ragaio di nessuna lingua è tutto un fume hai detto fumo? ecco 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 è entrato con prepotenza corridoio è moto quale? sua madre destra eh si destami si troppo ma perchè spara a te ma perchè spara a te ma dai ma dai io voglio raga vantaccia ma donna attenzione no raga c'ha uno di vita cavera c'ha uno c'ha uno che cazzo tatan tatan bella no no ma come ho fatto? come ho fatto? come ho fatto? bastava che voi lo scudo lo spostamento d'area la uccidevi come ho fatto? no vabbè no raga leggermente la gando l'ha fatta leggermente leggermente ma la gando non ce n'è rito dai dai basta via il culo devo fare la squadra di estrazione random a questo punto squadra di estrazione transalpina che giocatore ehmilo vuoi vedere una cosa adesso? dai te la faccio vedere adesso no calmo vuoi ci vedere una cosa raga pensate quando pensate quando ci sarà un operatore quelle che storrente a grappolo quanto sarà facile portare fuori ostaggi le bestemmie a grappolo ah ah eh eh che ex di eco adesso sta qua ok è l'ex di eco è l'ex di eco ah perché adesso sta con iban no non ho idea però se leggete la sua biografia ho visto un video è l'ex di eco questo no stavo one tappando è passato uno non sto scherzando però ho smesso di one tappare di one tappare non so perché mai raga ecco è tutto è tutto è tutto eh ho lacco fa di tutto che è questa sera non c'era non c'era ancora stasera entra e muore raga sono stupido raga sono stupido ho una stupidità mai vista io raga non c'è bisogno che ce lo ricordi tutte le volte chetto vedi lo spagio chetto vedi lo spagio fuga vai fuga rapida prendetelo esce attrappola fuga brutale fuga brutale fuga brutale mamma mia vaga che raga vedevo dire queste cose sperando e chetto vada vedevo un cazzo no cioè chetto vedevo dire queste cose no ho capito da bel tempo del trapero raga tu ci devi neanche pensare no 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 oh my god oh my god oh my god yeah i want you now tu mhm chesuka 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 l'altro ce l'ha anche silenziato sasca il sasca il sasca è impedito eh se lo vuoi fare impedito quel pompa deve essere silenziato è impedito ma è il parco di cristo quel pompa di quando è silenziato faccio vabbè ma la giochiamo sta partita o c'è ancora bene è che prima cosa abbiamo fatto scusa minchiata vabbè come tutt'asse emi emi bella mimetica non ho una mimetica sasa è una delle due armi di tutto il gioco per cui non ho una mimetica specifica emi io la vedo cosa? la mimetica è una delle due armi di tutto il gioco che non ho una mimetica specifica è una delle due armi di tutto il gioco che non ho una mimetica specifica si mi ha gioco è un altro gioco tanto un pedito molto bello l'hai spaccata qua? è no non c'è la spaccata ocio Raga, lo spazio, fa i buchi del muro come una cartolina. Su sta mappa fare spuntile come prendere la sorella di una personale. Sempre ancora per un can sessuale. Si è trasportato da una parte all'altra del muro. Bene, io mi metto qua e sono a posto. Aspetta, devi essere protetto dalla sicurezza e dalla sorveglianza. Guarda, facciami una cosa. Sai qualcuno che mi copre? Qualcuno che ti metta qua dentro. Guarda, metti lì dentro, coprimi da lì te. Ah, qui nella camera mortuaria. Le telecamere, secondo me, ti proteggono bene. Sei ben protetto. Giusto, manco c'è una visuale sulla cosa. Sulla finestra, perché c'è la bomba davanti. Nel caso sei in pericolo, faccio saltare tutto io. Andiamo kill agli avversari. C'è un palazzo. Ehi, sì! La bigoli. Ma poca! Bani inti appena spaccato il drone. Lui giù. Ma se tipo me la lascio malissimo col pompa? Naaah, meglio non parlare che non sa una logica C'è il pompa di Twitch Ok, da quando noi giochiamo con la logica, mi scusa? Siuuz! C'è il Maitre nella zona del giardinetto, ragazzi C'è il giardinetto, ah, ok Sì, mi non ruba il c***o! Ho capito, ho capito Calmo Si nervosisci facilmente Ti va bene niente C'è il giardinetto Dov'è? 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 C'è posto Spawn down roversal mi fa la facilità, c'è il giardinetto Oh, oh C'è tutto il panico ancora Guarda il spawn Your location has been compromised Oh, a merda Ma che c***o stai a fa' Ma fammi i fragili Esci il bari, a merda C'è comodo madre Ammaga Non è possibile Non va Far rivederlo Ma che c***o di c***o ma pure il druce Ma dov'era sta qua? Ma questo nerd di merda schifoso Dov'era il nerd? Scusa sopra dove è morto, dove sono morto io guarda i capi sono la mappa e da lui si usa ma stessa scusami no asciò matato me si si me ne puoi riuscire a porno a parare il penne porco il cristo è un nerf di merda questa stavo cambiando l'arma se volo la dico me lo lascio ottavo potevo non cambiare altro si ma io me la sono lasciata malissimo con il pompa e mi sono fatto una doppia mi sono fatto back e non mi ricordo chi è ah twitch questo è time of flash chi è che vuole lasciare con me? raga 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 si spanano si spanano diciamo spanano si 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 spanano spaurano noi andiamo con le fumogene e plantiamo e ci ne andiamo si spavano andiamo su other way with location sfondiamo la parete e plantiamo e ci ne andiamo si 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 ok vabbè vuoi una foto? si prendi il tuo gatto lo modifichi e gli dai fuoco ormai via accende accende il fuoco picca un gatto mamma mamma chetto this is this is primiti per lui ma porco dio infatti raga ha sparato un istante prima di me l'avevo preso perseveranza madonna che giocatore la sciama io la faccio butto un fumogeno adesso poi da la canna fuma sti cazzo l'ho mancata che cazzo stai a fare lo stanno accendere lì? eh c'è stanno ma è un cazzo cosa che sei costruito un cazzo è lì dove ho sparato col pompa guarda what the fuck ho messo un segno per me che sasa sta giocando ma l'ho preso in testa io l'ho preso in testa oh cazzo senza una logica questi sputti ho sputato di vita ora che porca madonna kobe non so che mi si dice cazzo mi ha sparato in testa vengo anch'io l'hai punito vengo anch'io io bubu gagan è un'altra bomba interroga no sono scared come ti interroga sono come l'ho ucciso chè ieri ma stavo per suggerirti cazzo non ce l'ho fatta eh mio giusto jager con brutalità sto passando capitale a post sta di poli vai faccio che sembra male si cheat francese poi sono le 7 e te ne devi andare no 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 basta le 8 prendo Doc con il cerchino vai raga che ho famo anche io francese non mai do lì che ricordare però adesso vado prendere un cazz di pizza vado prendere un cazz di pizza vado prendere un cazz di abbiamo tutti i fammi amista ragazzi ma abizz ma abizz abizz cabolo pochè se avessi una pizza probabilmente avrei mangiato un status pace Ancora qua, ma che del coglione Spaccami tutto, se stava in brutalità Non potevamo spawner loro qua, no? Non potevamo spawner loro qua, no? Che impedimento spara, guarda Cosa, togliti Sai raga, questa è un pompa che spacca i furi veramente Che proprio... Ah! Allora, che soddisfazione Spawn dai muri Ok Dov'è spawner Anos? Dov'essimo spawnare i muri Questa c'era la vacanza che ti ho fatto Ehm, vuoi fare... vuoi fare la stessa roba di prima? Sì, sì Un dock questa volta, però Puoi fare il bagnance? Puoi farci ammazzare dopo 2 secondi? Sì Vabbè, allora ce ne andiamo Sono morto per ultimo, io credo Basta, siamo qua, adesso sono pronto Puoi fare il glitch dock adesso? Non è male Puoi fare il glitch dock adesso? Non è male Non è male Non è male Non è male Ma donna come non me la meritavo questa kill Madonna come non me la meritavo Non me la meritavo proprio questa kill Senti, che l'hai fatta bene Ma che cazzo fai Quanto non c'è io, questa cosa? Che c'è la mancetta? C'è fatto un cuore Ragazzi, ha fuggito sopra di lui Gli fa tutti Io vado sotto Non c'è Cristo Fanno i buchi Fanno i buchi Non c'è qualcosa Chi ha fatto quel buchi? Maledetto, ammazzo Ammazzo Fuzz c'era comunque E' fuggito Io stavo andare su Vado per scavarca Non mi scavarca Per Cristo Un croce Sotto nella crisi E mi vuoi vedere come gioco a kickstar Vado Uh, sono vecchio Sono vecchio Non puoi interroga Non puoi interroga Però, cazzo Si Dov'è? Non te l'ho fregato perché sono bravo Ma dov'è regà? ABCD è in cucina Ma dove? Non mi hai visto entrare In cucina In cucina In cucina Io ho capito Cosa? Io non c'è chi E mi zitto If you remain in this zone You will be detected by hotels You have been spotted by hotels Fall back Eh, in cucina Non in bar Oh, non ha capito questa Ma c'è una mazzocca Raga, c'è sniping in live qui eh Se esce E' meglio da qui o sei? No! No! Faccio il marker Shhh! Se continui per dirgli lo prendi Mamma mia, così lo scopri male Friendly ladder Oh! Oh Dio Eeeh 15 di vita Da dove? E' un cecchino Da dove? E' un cecchino E' un cecchino E' un cecchino Io ho detto che è un cecchino sto coso Guardate Upscoping Ma da dove l'hai preso? E' un cecchino